C'è un'Italia che vuole ripartire, che continua tenace a produrre le sue eccellenze. Uno spirito forte che dà i migliori frutti quando tutto è più difficile. I veronesi, gente che non si arrende e che vuole ricominciare da capo, di nuovo e meglio. Consapevoli di non dover abbassare la guardia, perché non dimenticano. Il gruppo Ronda vuole assistere questa Italia che è ancora fragile, ma che tornerà forte, con strumenti all'avanguardia di controllo e di prevenzione per proteggere e conservare il nostro patrimonio umano, tecnologico e culturale. Vogliamo tornare a fare cose grandi senza dimenticare quelle piccole. Vogliamo costruire e studiare e crescere con una nuova energia. Vogliamo poter riempire di nuovo le strade, le piazze, le nostre case. Ma per far questo dobbiamo resistere. Ci attende ancora una grande battaglia da combattere. Il gruppo Ronda è già pronto con soluzioni per imprese e attività grandi e piccole, per il controllo degli accessi e delle distanze sociali. Donne, uomini e tecnologie con le quali sappiamo monitorare e gestire entrate, uscite e mitigare il rischio contagio. Noi siamo la vostra sicurezza. Chiamalo 045 82 92 514. www.larondavigilanza.net 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 www.larondavigilanza.net